sono un po' italiano che figata che figata che figata ragazzi stamattina per la prima volta nella mia vita ho fatto rafting e c'è dove se non in Patagonia per la prima volta fuori di testa bellissimo partendo da Porto Beltran abbiamo fatto 7 km di rafting sul rio Bacher che ha dei colori veramente fuori di testa cioè se il verdone è bello c'è qua l'acqua e quel gradino in più è stato fantastico poi metto qualche video e adesso molto tranquillamente andiamo verso Cocrane perché stasera mi hanno detto che c'è una festa tipo di paese quindi direi perfetto mi fermo lì penso di avere un'ora un'ora e mezza di strada ma ho già un sacco di spot dove fermarmi a far foto quindi ci arriverò molto probabilmente stasera tanta roba è stata un'esperienza devastante mamma mia bellissimo ma ho già un'ora e mezza di strada 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 ho appena trovato da mangiare quel Cocrane che sembra una cosa incredibile perché non si trova niente questo è il locale della signora, comida da casa fighissimo signora Ascuccia ti adesso una servessita? è solamente uno mi amore allora questo giro con la cabana leggermente esagerato prezzo 95 euro e ho pagato tra l'altro in euro perché avevo pochi cash contanti adesso devo andare a prelevare adesso ve la faccio vedere una delle più belle case anzi la più bella casa sicuramente in Cile per sei persone stufa pellet veramente paurosa c'è anche un perro con questa cabana c'è anche un perro un perro molto lindo c'è ragazzi beccate sta casetta sei persone cioè non potrei trasferire tranquillamente qui quindi facciamo il room tour come gli youtuber e interno stufa pellet che la scorsa notte con la stufa legna bellissima ma alla mattina barbellavo dal freddo tac figata wifi che va cannone zona giorno con cucina stanza con tre letti bagno bellissimo super curato super pulito soprattutto forno all'altezza per i miei lunghi capelli e camera matrimoniale anzi tres c'è che casettina ah punto forte tac terrazzo vista tenerona tipo fff uff uff Grazie.